Buongiorno a tutti i presenti, tra l'altro molti di loro li conosco e ho rapporti di amicizia e di stima da tantissimi anni. Devo dire che nell'intervento prima di Alberto Brambilla e poi successivamente del Vice Ministro sono arrivati tutta una serie di messaggi che sotto il profilo tecnico ovviamente catturano, almeno per quanto mi riguarda, un grandissimo interesse. Io ho preparato, devo dire che forse ora nel percorso che farò, farò delle piccole variazioni, ho preparato una traccia del mio intervento cercando di porre l'attenzione sugli aspetti tipicamente tecnici e il ruolo in particolare del bilancio tecnico ai fini del monitoraggio dei rischi che interagiscono sulle gestioni sia delle casse di previdenza che dei fondi pensione. Per capire il ruolo sono qui tra specialisti, in realtà siete tutti interlocutori che hanno a che fare regolarmente con un bilancio tecnico, quindi mi soffermerò veramente molto poco su cosa significa il bilancio tecnico, più che altro per andare poi verso una indicazione che è la rappresentazione della mia opinione sulla lettura del comma 24, dell'articolo 24, nel merito proprio della sostenibilità di lungo periodo delle promesse previdenziali. Volendo ragionare di proposte dobbiamo renderci conto di quali sono effettivamente, qualificare quali sono i rischi che interagiscono completamente sulle gestioni sia delle casse di previdenza sia dei fondi pensione. Devo dire che volendo fare una classificazione che possiamo ritrovare anche nella letteratura, non solo quella scientifica, ma anche quella professionale, identifichiamo nell'ambito delle casse di previdenza tipicamente un rischio economico finanziario, rischio economico finanziario che è strettamente collegato da un lato ad una promessa previdenziale che è agganciata in qualche maniera al reddito prodotto ovviamente dall'iscritto durante il periodo della sua fase di attivo, quindi di lavoratore. Sul piano dei rischi finanziari l'altra promessa, parlo sempre delle casse di previdenza, che deriva almeno per le casse quelle che sono rette dal sistema contributivo, dall'agganciamento della rivalutazione dei montanti contributivi alle variazioni del prodotto interno lordo. Questa è una vera scommessa per questo segmento di casse di previdenza, perché sono obbligate a garantire un livello di rivalutazione che è strettamente agganciato ad un parametro macroeconomico e possono far fronte a questo impegno direttamente realizzando ovviamente i redditi dagli investimenti finanziari, il che significa che gli organi di governance delle casse di previdenza, almeno per questo segmento, sono obbligate costantemente a fare delle scelte di investimento che siano tali da garantire mai di avere risultati finanziari al di sotto del livello indicato ai fini della rivalutazione. Direi che usando un gergo tecnico che è tipico degli argomenti di finanza matematica è dire che abbiamo per queste casse la presenza all'interno della gestione di un'opzione finanziaria di tipo cliquet, ovvero sia l'agganciamento al PIL con un consolidamento del risultato anno per anno. E poi l'altro rischio importante, parlo sempre delle casse di previdenza è un po' meno sentito sul lato fondi pensione, che è il rischio di longevità. Il fatto di fissare coefficienti di trasformazione dei montanti contributivi, parlo soprattutto di quelle per il momento a contributo definito perché tra l'altro presentano delle caratteristiche peculiari anche rispetto alle previsioni contenute nel richiamato comma 24, articolo 24, la trasformazione dei montanti contributivi previdenziali in rendita pensionistica è fatta sulla base di coefficienti attuariali che vengono prefissati tempo per tempo, vengono rimodulati ai sensi di legge su periodi in genere triennali per tenere proprio conto dell'effetto della longevità. Bene, ma questo è un rischio non banale con il quale tra l'altro alcune casse di previdenza cominciano a fare i conti proprio in questo momento. Sul lato fondi pensione in realtà devo dire che le due rischiosità che ora ho identificato per le casse di previdenza non sono così evidenti. Sulla base della normativa attualmente vigente, il rischio finanziario è strettamente collegato alla garanzia che viene offerta sui comparti garantiti anche per la destinazione del trattamento di fine rapporto lavoro, ma in realtà durante la fase di accumulazione il vero rischio che hanno i fondi pensione, soprattutto perché ricordiamoci in linea generale la garanzia finanziaria viene in qualche maniera riassicurata al mercato finanziario attraverso contratti che legano intermediari finanziari ad inserire o a iniettare patrimonio dove scati l'esigenza del rispetto della garanzia, in realtà il vero rischio con cui hanno a che fare nella fase di accumulazione i fondi pensione di nuova matrice è il cosiddetto rischio di reputazione. normalmente il rischio di reputazione lo si legge sia nel confronto primario con le performance rappresentate attraverso le variazioni di legge del trattamento di fine rapporto lavoro, sempre di più questo è il benchmark di riferimento per i fondi pensione e dall'altro anche la necessità, che a parer le performance anno per anno tra di loro quasi ad assimilare il fondo pensione ad un fondo di investimento confondendo peraltro quindi completamente le finalità. Questo ovviamente che vi riferisco a un'opinione del tutto personale, pertanto e la dico peraltro da ex consigliere di amministrazione di uno credo del più grande fondo pensione almeno per il momento italiano. Il rischio demografico nell'ambito dei fondi pensione ovviamente è completamente attenuato o meglio il fondo pensioni salvo specifiche deroghe che sono previste già dalla normativa ma che al momento non mi risulta siano state attivate, il fondo pensioni non assume il rischio di longevità ma trasferisce il rischio di longevità direttamente al mercato assicurativo e ad oggi la famosa deroga che è consentita per quei fondi pensione che hanno un numero di iscritti che superano una certa soglia al momento non è stata assolutamente attivata. Devo dire che pur essendo vicino al mondo assicurativo onestamente ci sono dei fondi pensione oggi di grandi dimensioni che potrebbero attivare questa deroga e questa deroga in realtà non va vista dal fondo pensioni come un'ulteriore rischiosità perché potrebbero essere attivate dei sistemi di pagamenti di rendite su intervalli predefiniti di tempo e quindi riassicurare eventualmente al mercato assicurativo semplicemente l'eccedenza di longevità con il che potendo continuare i fondi pensione a mantenere nel proprio patrimonio anche la parte di patrimonio relativa, le qualifico in termini generici, la riserva pensionati che ovviamente potrebbe continuare a produrre redditi a favore degli iscritti al fondo pensione. Allora, identificati i rischi, il bilancio tecnico come tutti loro sanno direi che è lo strumento diagnostico per l'analisi e il monitoraggio dei rischi nel tempo. È un bilancio di previsione, in questo senso è stato richiamato qualche istante fa il fatto della previsione sui 50 anni, già oggi il bilancio tecnico, mi riferisco in particolare alle casse di previdenza, è fatto su un periodo di 50 anni, la sua struttura tecnica, così come viene richiesto come bilancio standard da parte dell'ente vigilante, è una struttura da un lato di tipo conto economico previsionale, quindi con un prospetto che riepiloga per anno di gestione su un periodo di 50 anni le entrate contributive e le uscite non solo per prestazioni, ma anche le uscite relative alle spese di gestione, oltre sul fronte delle entrate ai redditi del patrimonio e tra l'altro le informazioni relative proprio alla dimensione del patrimonio alla fine di ciascun anno. Sul lato dello Stato patrimoniale l'informazione che viene riportata è tipicamente l'informazione del valore attuale sul lato attivo e sul lato passivo, rispettivamente delle entrate contributive e delle passività, sia le passività immediate relative alle pensioni in godimento, sia le passività latenti che riguardano le pensioni che verranno erogate ai soggetti che al momento di valutazione sono ancora in uno stato di attivo. Vengo sul tema, non mi soffermo sulle ipotesi che sono dietro, è chiaro è un bilancio di previsione, quindi bisogna inserire ipotesi sull'evoluzione demografica, sui fattori economici, sui fattori finanziari, ma sono tutti argomenti che credo che ai presenti sono ben noti. Una cosa che invece voglio sottolineare, che rientra nel tema che oggi nell'ambito del convegno, perché non tener conto del patrimonio? E qui devo dire che sotto il profilo attuariale, parlo del tener conto del patrimonio ai fini della sostenibilità di medio e lungo periodo della situazione di sostenibilità del fondo o Cassa di Previdenza. Dunque, va ricordato a noi tutti che alla base della relazione di equilibrio intertemporale attuariale, il patrimonio riveste un ruolo fondamentale. Questa relazione che ho scritto e che ho stilizzato in maniera molto generale, come vedete è una situazione sostanzialmente che identifica quello che è la situazione di bilanciamento fra attività e passività della Cassa di Previdenza. Sul lato degli attivi abbiamo la voce relativa al credito che in buona sostanza la Cassa di Previdenza vanta nei confronti degli iscritti, e cioè quella che è la massa dei contributi che dovranno arrivare. Sul lato delle passività compare un'unica posta, che è una posta relativa alle passività immediate e alle passività latenti, quindi pagamento delle prestazioni delle pensioni in corso e pagamento delle future pensioni, ma un ruolo fondamentale ai fini della determinazione dell'equilibrio in lungo periodo è la presenza del patrimonio. È chiaro che il patrimonio gioca un ruolo diverso fra le casse che sono rette oggi pienamente con un sistema contributivo e le casse che invece hanno ancora un sistema tra il retributivo e il contributivo. Devo dire che da tecnico ho un po' di difficoltà a immaginare come una Cassa che è retta da sistema contributivo debba adeguarsi entro i termini temporali stabiliti, dove il saldo previdenziale che è banalmente nella proiezione di bilancio tecnico, semplicemente la differenza fra entrate contributive e prestazioni debba essere o possa essere sempre strettamente in equilibrio, dove qui il principio dell'equilibrio potrebbe essere avere sempre un saldo che non sia mai inferiore a zero e quindi non vada mai in negativo. Ma questo è un controsenso in un sistema che è retto dal metodo della contribuzione definita, perché il patrimonio che è stato chiamato prima dal Vice Ministro come patrimonio di ultima istanza, non è un patrimonio di ultima istanza nel senso di un asset libero da impegni, perché in quel patrimonio per lo più, almeno per il 90% è costituito dagli zainetti, ovvero sia dai montanti contributivi degli iscritti, quindi in realtà è il patrimonio degli iscritti, ovvero sia il patrimonio attraverso il quale, quindi tramite la trasformazione in rendita, presiderà gli impegni e le obbligazioni assunte. Nell'ambito di un sistema contributo definito noi abbiamo un sistema cosiddetto della capitalizzazione individuale, tanto si versa, tanto si riceverà l'unica incertezza che si crea, e qui ripeto nuovamente è un'incertezza che non va banalizzata, è il rischio di longevità, cioè investimenti durante la fase di accumulazione, ma terminata la fase di accumulazione la longevità, proprio perché il coefficiente di trasformazione è l'unico parametro che ha una dinamica, è vero di variazione legata ad un timing triennale, ma che può portare a risultati di lungo periodo anche, devo dire, imbarazzanti dal punto di vista della sostenibilità. Ma il patrimonio in un sistema a contributo definito è assolutamente a presidio degli impegni, quindi non è il patrimonio cosiddetto di ultima istanza. D'altra parte io credo invece, e qui vengo più nell'ambito delle proposte anche perché ho già consumato buona parte del tempo a mia disposizione, io credo che il sistema migliore per poter in qualche maniera controllare la sostenibilità di lungo periodo, sicuramente sia avere delle idee sulla lettura chiara del bilancio tecnico, ma bisogna passare ad un approccio valutativo che tenga anche conto del capitale, ma secondo una logica che è cosiddetta la logica risk based. Non mi invento nulla di nuovo, se diamo un'occhiata ad interlocutori che hanno una missione abbastanza simile dal punto di vista della gestione dei patrimoni, mi riferisco alle banche piuttosto che alle assicurazioni, in realtà un approccio, avevo pensato di aver consumato più tempo, in realtà l'approccio cosiddetto risk based è un approccio che oggi viene usato dalle banche per misurare quelli che sono i requisiti o dalle assicurazioni a partire dal 2014, quelli che sono i cosiddetti requisiti patrimoniali ai fini di solvibilità. Il concetto del requisito patrimoniale ai fini di solvibilità ha a che fare con il concetto economico del capitale economico, dunque per capitale economico in un'impresa si intende quella parte del cosiddetto free capital, quindi l'eccedenza di attività finanziarie che può presidiare la variabilità degli impegni a cui è soggetta l'impresa con un determinato livello di confidenza, dunque parlare quindi di approccio risk based necessariamente significa ragionare non più con un approccio valutativo di tipo deterministico, oggi i bilanci tecnici sono fatti ragionando che i profili di proiezione siano profili ad alta probabilità e che quindi le stime per esempio delle entrate e delle uscite che sono rappresentate nel bilancio tecnico esprimano una condizione di certezza, siccome abbiamo a che fare con enti aleatori, prima ho rappresentato quali sono i possibili rischi identificabili nella gestione previdenziale, è evidente che il bilancio tecnico dà una possibile rappresentazione del mondo futuro e sintetizza l'incertezza direttamente in un unico vettore di informazioni. Il modo migliore invece di ragionare dal punto di vista risk based è proprio quello di poter capire quale può essere l'effetto indotto sul patrimonio disponibile da variazioni cosiddette inattese legate alle evoluzioni delle fonti di incertezza. Rischio finanziario cosa significa? Posso collegare o rappresentare come si fa normalmente nel bilancio tecnico il rischio finanziario direttamente attraverso il tasso di interesse unico? È immaginabile ed è credibile che usare il tasso di interesse unico proiettato per 50 anni abbia un suo significato, ma è assolutamente falso, quindi credo che tutti gli operatori qui presenti ne siano ben consapevoli, così come è immaginabile di pensare che l'andamento della longevità vada nella direzione che è rappresentata attraverso la tavola di mortalità adottata nelle valutazioni. Stiamo parlando di proiezioni di lunghissimo periodo, quindi l'incertezza che è tipicamente un'incertezza di parametro in qualche maniera deve essere catturata nella valutazione e l'unico modo per farlo è quello dell'approccio risk based. Tra l'altro devo dire che l'approccio risk based in qualche maniera è già stato indicato dalle norme, io qui devo dire ho fatto una rapida ricerca di due disposizioni, una riguarda la direttiva del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, quella del 10 febbraio 2011 e che ha come ambito di riferimento proprio la gestione dei rischi nelle casse di previdenza. Per le casse di previdenza in realtà un approccio di tipo risk based o se volete asset liability management di tipo risk based è già stato formulato. Nella direttiva del Ministero del Lavoro si precisa chiaramente che deve essere fatto il ricorso da parte degli enti previdenziali all'utilizzo sistematico di analisi del rischio nella valutazione delle opportunità di investimento e di disinvestimento in relazione alle passività del patrimonio. Questo è un aspetto fondamentale che va semplicemente reso operativo. Se questo è il riferimento nell'ambito delle mondo enti previdenziali, nel mondo fondi pensione una bozza di regolamento derivante dall'articolo 7 del decreto legislativo 252 del 2005 riferisce che i fondi pensione che garantiscano prestazioni sia di tipo biometrico o di investimento, si debbono dotare di riserve tecniche e non solo di riserve tecniche a presidio degli impegni assunti, ma addirittura che debbano disporre di asset finanziari e quindi di free capital eccedenti gli impegni coperti già dalle riserve tecniche. Quindi già la normativa nel settore previdenziale sta preconizzando la necessità di introdurre principi tipici legati alla determinazione di requisiti patrimoniali di sicurezza. È questo il cosiddetto capitale di ultima istanza e secondo me sul piano tecnico in questo senso va interpretato il principio del capitale di ultima istanza a cui ha fatto riferimento il Vice Ministro riportando anche l'idea del Ministro. E allora tecnicamente che cosa significa? Significa costruire un modello di asset liability management secondo un approccio tecnico che viene definito approccio tecnico di cash flow matching, il che equivale a dire che i nostri bilanci tecnici debbono essere più vivaci dal punto di vista della capacità informativa e questo per esempio significa poter valutare sul piano delle passività attraverso opportuni modelli teorici, esistono in letteratura ma sono già applicati da diversi interlocutori anche finanziari per l'emissione di titoli e di strumenti derivati sull'oggetto di rischio, per esempio le distribuzioni empiriche degli oneri sul lato del passivo. Queste due curve che sono qui rappresentate rappresentano da un lato la distribuzione delle passività di un ente previdenziale legata a questa distribuzione di probabilità delle passività sul periodo di proiezione legata ai fattori perturbativi di carattere cosiddetto diversificabile, il classico principio del rispetto della mutualità, mentre la distribuzione che trovate con le barre rosse è una distribuzione di probabilità campionaria ottenuta tenendo conto dell'oggetto di rischio, cioè per produrre questi risultati sulla riserva pensionati di un ente di previdenza si è fatto ricorso all'utilizzo di un modello di proiezione della longevità. Esistono in letteratura oggi dei modelli econometrici, sono operativi, cito un nome tanto per citarlo soprattutto agli operatori che sono qui presenti e che lo conoscono, il modello di Lee Carter, che consente sostanzialmente di avere un'idea fra dieci anni di quanto sarà l'effettiva, teorica evidentemente, capacità di sopravvivenza di un 65enne e di quanto la probabilità di sopravvivenza del 65enne oggi differisce dalla probabilità di sopravvivenza del 65enne che sarà tale in generazione fra dieci o quindici anni. Bene, questi modelli catturano quindi l'effetto del longevity risk e lo possono riportare attraverso degli intervalli cosiddetti di confidenza e quindi di sicurezza direttamente sulla riserva. Questo lato passivo. Lato attivo. Sul lato attivo, sempre con un modello di asset liability management, è possibile determinare non più un unico rendimento da proiettare per il futuro, ma una distribuzione di probabilità di rendimenti. Distribuzione di probabilità di rendimenti significa a questo punto che nelle analisi di bilancio tecnico sarà possibile fare delle analisi comparative tra più bilanci tecnici riferiti allo stesso ente previdenziale. Quindi ogni ente previdenziale, il ragionamento può essere tranquillamente trasferito anche nell'ambito dei fondi pensione, ogni ente previdenziale potrà avere un bilancio tecnico che è la rappresentazione di una distribuzione campionaria di probabilità. È come dire che non avremo un'idea dal punto di vista del consigliere di un unico dato di disavanzo. Il disavanzo è un'informazione sintetica che è fortemente basata sulle ipotesi che vengono adottate nella valutazione, ma si potrà avere l'idea di una distribuzione di probabilità di disavanzi e si potrà per esempio inferire delle misure di rischio tipiche usate in finanza, cito il nome del VAR che credo sia noto come misura di rischio a tutti i presenti, anche direttamente sulla gestione ovviamente degli attivi delle casse previdenze. Per poi arrivare al risultato finale, abbiamo detto dobbiamo determinare qual è il capitale di ultima istanza? Bene, mettendo insieme l'attivo e il passivo si può avere una distribuzione di probabilità, che è questa che è riportata in questo grafico, di quello che è il net asset value, cioè della parte del capitale libero da impegni, è disponibile quindi per poter coprire in sede di ultima istanza, quindi il principio di cui poco fa ci ha riferito il Vice Ministro, in sede di ultima istanza poter coprire quelle che sono le variazioni inattese legate alla dinamica delle fonti di incertezza. Quindi la mia idea è sostanzialmente, non è il problema dell'equilibrio ai fini della sostenibilità sulle entrate e uscite dell'anno, perché puntare a quello comunque si ha una visione parziale, l'idea è costruire un sistema di monitoraggio che sia basato sul concetto di un asset liability management e che consenta di determinare quello che è il valore del patrimonio di ultima istanza, inteso proprio secondo il rispetto del principio teorico del capitale economico. Principio che, torno a ripetere, oggi può essere tranquillamente mutuato dalle regole che gestiscono la rischiosità nel settore bancario e nel settore assicurativo. Le mie conclusioni. Una cosa che vado peraltro promuovendo come idea, ma da studioso, quindi non perché abbia degli interessi personali. Una cosa che secondo me i gestori di previdenza, siano essi pubblici, quindi casse di previdenza piuttosto che fondi pensione, debbono prendere in seria considerazione, è la possibilità di far nascere il mercato degli strumenti cosiddetti longevity linked, ovvero sia di tutta quella serie di strumenti tipo obbligazioni collegate alla longevità piuttosto che derivati collegati alla longevità, i quali essendo a bassissima correlazione con il mercato finanziario, consentono agli enti previdenziali e fondi pensione di avere degli strumenti da un lato non correlati con il rischio del mercato finanziario e dall'altro la possibilità di creare dei programmi di edging sulla longevità. Io su questo finisco vi ringrazio per l'attenzione. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a tutti.